Il drago di Comodo, un re preistorico. Immaginate un rettile gigantesco, un vero e proprio dinosauro sopravvissuto fino ai giorni nostri. Un animale dalla mole imponente, con una lunga coda muscolosa, artigli affilati come lame e una pelle che sembra un'armatura. Questo è il drago di Comodo, il re indiscusso delle isole minori della Sonda, in Indonesia. La sua esistenza ci riporta indietro nel tempo, a quando i rettili giganti dominavano il pianeta. La sua presenza è un monito, un ricordo di un passato lontano e affascinante. Il drago di Comodo è il più grande rettile vivente, capace di raggiungere i 3 metri di lunghezza e i 150 chili di peso. La sua mole imponente è solo uno degli aspetti che lo rendono un animale straordinario. La sua storia evolutiva è avvolta nel mistero, ma sappiamo che ha trovato rifugio in queste isole vulcaniche milioni di anni fa, evolvendosi in isolamento e diventando il predatore alfa del suo ecosistema. Le isole del drago, un habitat unico. Le isole minori della Sonda, dove il drago di Comodo vive allo stato brado, sono un arcipelago selvaggio e affascinante. Qui, la natura incontaminata, come ai tempi di Salgari, regna sovrana. Foreste pluviali lussureggianti si alternano a savane aride e coste frastagliate, un vero e proprio paradiso terrestre. Il clima è tropicale, caldo e umido, ideale per la sopravvivenza di questa specie unica. Le isole di Comodo, Rinca, Flores e Gilimotang sono le uniche al mondo dove è possibile incontrare questi giganti in libertà. Qui, i draghi regnano incontrastati, adattandosi a diversi habitat, dalle foreste costiere alle pendici dei vulcani. La loro presenza modella l'intero ecosistema, influenzando la fauna e la flora locali. Un morso velenoso, la strategia letale. Il drago di Comodo è un animale schivo, ma estremamente pericoloso. La sua reputazione di cacciatore letale è dovuta al suo morso velenoso. La sua saliva contiene un cocktail letale di tossine che causano una serie di effetti devastanti sulla preda. Emorragie interne, paralisi muscolare, shock e morte. Un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Quando un drago di Comodo morde la sua vittima, il veleno si diffonde rapidamente nel sangue, indebolendola e conducendola alla morte. Il drago, grazie al suo olfatto sviluppatissimo, può seguire la preda anche a distanza di chilometri, aspettando pazientemente che il veleno faccia il suo corso. Cacciatori silenziosi, tra agguati e pazienza. Il drago di Comodo è un predatore opportunista che si nutre di una vasta gamma di prede cervi, bufali, maiali selvatici, serpenti, uccelli e persino carcasse di animali morti. La sua strategia di caccia si basa sull'agguato e sulla pazienza. Si nasconde nella vegetazione, mimetizzandosi perfettamente con l'ambiente circostante, aspettando il momento giusto per attaccare. Un vero maestro del travestimento. Quando la preda si avvicina in Nara, il drago di Comodo scatta fulmineo, sferrando un morso letale con i suoi denti affilati. La sua forza bruta e la sua aggressività gli permettono di abbattere anche animali molto più grandi di lui. Una vera e propria forza della natura. Storie dal cuore dell'Indonesia. Incontri ravvicinati. Le storie di incontri ravvicinati con i draghi di Comodo sono numerose e spesso raccapriccianti. Si racconta di animali domestici scomparsi nel nulla, di attacchi a persone che si sono avvicinate troppo ai loro territori, di turisti che hanno rischiato la vita per scattare una foto azzardata. Un caso emblematico è quello di un ranger del Parco Nazionale di Comodo, attaccato da un drago mentre svolgeva il suo lavoro di pattuglia. L'uomo, grazie al suo sangue freddo e alla sua prontezza di riflessi, è riuscito a salvarsi. Ma l'episodio ci ricorda che il drago di Comodo è un animale selvatico e imprevedibile, che va sempre trattato con il massimo rispetto. Consigli per esploratori. Come rispettare la distanza. Se avete la fortuna di visitare le isole minori della sonda, ricordatevi che siete ospiti nel regno del drago di Comodo. Rispettate il loro habitat naturale e seguite scrupolosamente le indicazioni delle guide locali, proprio come fareste a casa vostra. Non avvicinatevi mai a un drago, per nessun motivo al mondo. Evitate di camminare da soli nella foresta, soprattutto di notte. I draghi sono animali notturni e potrebbero essere in agguato. Se vi trovate faccia a faccia con un drago, mantenete la calma e allontanatevi lentamente, senza fare movimenti bruschi. Ricordate, la prudenza non è mai troppa. Il futuro del drago. Tra minacce e conservazione. Nonostante la sua fama di predatore invincibile, il drago di Comodo è una specie a rischio di estinzione. La distruzione del suo habitat naturale, il bracconaggio e il turismo di massa sono le principali minacce alla sua sopravvivenza. Un destino, purtroppo, condiviso con molte altre specie animali. Fortunatamente, negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di conservazione per proteggere questa specie unica al mondo. Sono state istituite aree protette, come il Parco Nazionale di Comodo, e sono state lanciate campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione locale e i turisti all'importanza della tutela del drago. Un segno di speranza per il futuro di questo magnifico animale. Conclusione. Un simbolo di forza e fragilità. Il drago di Comodo è un animale straordinario, un vero e proprio fossile vivente che ci ricorda la potenza e la fragilità della natura. La sua storia evolutiva, la sua biologia unica e il suo ruolo cruciale nell'ecosistema delle isole minori della sonda lo rendono un animale da ammirare, rispettare e proteggere. Il futuro del drago di Comodo è nelle nostre mani. Dobbiamo imparare a condividere il pianeta con queste creature straordinarie, garantendo loro un futuro sicuro e prospero. Solo così potremo continuare ad ammirare la loro bellezza selvaggia e a imparare dai segreti che custodiscono da milioni di anni. Un patrimonio inestimabile da preservare per le generazioni future.